Musica Benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere come completare la sfida Nuota nei pressi di diversi cartelli di divieto e di bagnazione Il primo cartello guardate dove si trova si trova esattamente qua Guardate eccolo qua Noi nuotiamo e completiamo la sfida Andiamo a vedere dove si trova l'altro cartello L'altro cartello di divieto e di bagnazione si trova qua Esattamente qua Eccoci qua guardate E questo qua Noi nuotiamo e completiamo la sfida Comunque questo video finisce qua Spero che ti sia piaciuto e mi raccomando iscriviti al canale per stare sempre aggiornato su Fortnite Lascia un bel mi piace per supportarmi, commenti e condividi Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Ciao